Questo video riguarda i migliori 3 fotocamere digitali. Il vincitore della qualità è il Fujifilm X-T3. Fotocamera digitale Fujifilm X, T3 a ottiche intercambiabili e obiettivo Fujinon XF18-55mm f2.8 RLMOIS, corpo in magnesio, sensore APS-CX-Trans CMOE 4x26MP, processore X-Processor 4, JPEG, RAW, RAW compressi, ISO 16012800, ISO regione video 160-25.600, otturatore MEC1-8000SSYNC, 1-250S, otturatore LED 1-3200S, raffica 11fps, mirino EVF 3,69MP, 0.75X, copertura 100%, high point 23mm, correzione diottrica con blocco, schermo touchscreen orientabile LCD da 3,1,04MP, touch function FN, focus area selection, touch shot, affollata ibrido a rilevamento di fase meno 3, fino a 425 punti affollata, affollata C programmabile, affollata C durante lo zoom, tasti affollata L, A e L, FN, quick menu, joystick per selezione punto affollata, MF Focus Peaky Glide e digital split image, intervallometro time lapse, istogramma, motion panorama, bracketing, focus bracketing, filtri avanzati, esposizione multipla, filmato 4K 16E9 e 17E960 trattino 24p, filmato FHD 1080, 16E9 e 17E960 trattino 24p, filmato high speed 1080p. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Olympus OM-D e MDA. Le tue foto notturne o in condizioni di luce scarsa non ti soddisfano? Con l'AE M10 Mark IV puoi catturare ogni dettaglio grazie al sensore Live MOS da 20 megapixel e al processore TruePic 8. L'AOlympus E M10 Mark IV compensa il tremolio delle mani per permetterti di catturare immagini chiare e prive di mosso proprio come le vedi tu. Vuoi lasciare a bocca aperta i tuoi amici con una qualità dell'immagine sorprendente? Scatta selfie e riprendi storie utilizzando la modalità selfie dell'Olympus OM-D e M10 Mark IV. Usa la modalità Art per dare spazio al tuo lato creativo, per foto degne di Instagram. Con 16 Art Filter, inclusi il Pop Art Filter e il Soft Focus Filter che puoi regolare subito prima di scattare. Entra nel territorio dei professionisti con la modalità Advanced Photography. Condividere le foto con gli amici è facile grazie alla connessione Wi-Fi della fotocamera. Con l'AE M10 Mark IV puoi trasformare esperienze e momenti memorabili in video 4K ad alta risoluzione. Il vincitore del premio è il Kodak Astro Zuma Z401. A Z4001 Astro Zoom Passione e prestazioni vanno di pari passo con la nostra fotocamera digitale Digitai Kodak Pix Pro A Z4001 della collezione Zoom Astro. Un obiettivo Zoom ultra lungo 40x con stabilizzazione ottica dell'immagine offre primi piani nitidi e chiari da 16 megapixel, panorama a 180 gradi o video HD con l'interruttore di un pulsante. Le scene automatiche, il tracciamento degli oggetti, le funzioni di post-editing e una serie di impostazioni potenti ma facili da usare rendono la fotografia con questa fotocamera facile, divertente e senza problemi. Fotocamere Digitai Kodak Pix Pro Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.